Uno, due, tre, prova. One, two, one, two, one, two. Ciao, Lox. Ciao, ciao. Essere qua è pur sempre un motivo di felicità, di orgoglio. Siamo una band che c'è da vent'anni, ventidue. Ormai essere davanti a una piazza di questo tipo ci dà sempre un certo tipo di brivido. E poi ci sono delle motivazioni sociali in sottofondo che rendono ancora più preziosa la nostra presenza. Quindi benvenga tutto questo. Il live è una delle ragioni di essere del nostro stato di musicisti. Non potremmo farne a meno. Al giorno d'oggi si suona molto anche per stringenti necessità. Però per noi è veramente uno dei modi che conosciamo per vivere e per vivere bene la nostra vita. No, la Traklik, non la Dospa, perché siamo ancora in fase definitiva di decisione su un pezzo. Quindi a questo punto me la tengo ancora per me. Anche se ormai manca molto poco. Però siamo un po' indecisi. Ma in occasione di questo tipo la cosa principale è che il cambio palco, siccome è così veloce, i nostri tecnici non possono sbagliare nulla nel cablare i cavi. Se tutto funziona spacchiamo, andiamo e ci diventiamo. Ciao metro, ciao lettori di metro, grazie per la ospitalità e lunga vita.